Musica 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 Dopo che non ci spartire i soldi con i vostri uigli e costringire la povera gente alluvionata se non vanno a casa d'affitto, devono colare giudinno. Amici alluvionati, i soldi che andiamo a mandare questa volta non abbassare per tutti, ma non vi preoccupate. Gli che ancora non devono una lira andano andando la pazienza per me aspettare in un'altra poche giornata, che sicuramente li pigliano con il secondo gruppo. Il gruppo andava a ronci e resta un suo petto a queste brutte infame. Ma ancora non finito, sentite che bella schiuma andiamo a tagliare la lista dell'alluvione. E rendetevi conto di non dire finire i soldi dalla casa nostra. E nemmeno a farla posta c'era l'ufficiale posta. Da via fu rotto avvocati, i pigliari l'arretrati, per finire i meno mali c'era un medico di animali. Mangia pepe e mangia i toni e si butterò i milioni. Mangia pepe e mangia i toni e si butterò i milioni. Mangia pepe e mangia i toni e si butterò i milioni. Mangia pepe e mangia i toni e si butterò i milioni. Mangia pepe e mangia i toni e si butterò i milioni. E questo non mi sembra che non è vero. È vero, è vero. Se vogliono i soldi arrivano presto presto come arrivano sempre. Ma l'ho fatto è che i soldi arrivano con mezzo giorno. E si buttano anche la notte. E noi sempre aspettavamo, aspettavamo. Aspettavamo la manna del cielo. Aspettavamo come aspettavano che gli dà il quinto centro siderurgico. Gli quanti avevano i piccoli misure, ma ora vengono a prendere che si consumano il metro. E poi andano i misure a occuparmi con mezza canna. Ma come capita sempre, sempre un più ricco, vengono avanti. E sempre le stesse persone, ma non gli sordi in questa regione. Povera Calabria ammane queste laddere. Disgrazia male a Montano. Che noi si vediamo ora con il tribunale. Da regioni sono riuniti, giovani vecchi e ribambiti. Da non studiano sventura, non muovirino a prendura. Da non studiano sventura, non muovirino in prendura. Non si parla più a regioni, i terremoti e alluvioni. Da non pensano giustosto a cui ci tocco tale posto. Da non pensano giustosto a cui ci tocco tale posto. Ho disgrazie e malasorti, di chiudisti tutti i porti. Con sta gente, con sta giunta, forza casa chi uno sputta. Con sta gente, con sta giunta, forza casa chi uno sputta. Con sta massa di porfanti, non si può digliere avanti. Tutti i casi sono spaccati e le terre abbandonate. Tutti i casi sono spaccati e le terre abbandonate. Ma se tornano po' voto, meglio veno terremoto. Non ci risponda tarantella, ma mi soga caramella. Ci risponda tarantella, ma mi soga caramella. Questo motivo è fermato e inalluvionato non pagato. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.